e Spartak RU3B 4,27. Effettivamente sono i tre cavalli migliori e si dividono i favori del pronostico. L'autostarter lancia i cavalli, alla corda splendore RAB cerca di respingere Sion del RUM all'esterno di tutti, tra i due il 5 di Sissi-Holtz. L'allungo di Sion del RUM è preponderante e in poche battute scende alla corda davanti a splendore RAB. All'esterno avanza Sevillano, 14,1, i primi 200 metri. Sevillano si sistema quarto dietro Sissi-Holtz. Quindi Seducer, via via tutti gli altri, fuori corsa, il numero 8 di Servo le Lunghe, staccatissimo surprise. Primi 400 metri di Sion del RUM in 28,2, lo seguo a due lunghezze e splendore RAB, a precedere Sissi-Holtz e Sevillano. Quindi Seducer è il numero 6 di Spartak RU3B. 43 secchi, primi 600 metri, Sion del RUM, splendore RAB, a un paio di lunghezze Sissi-Holtz e Sevillano. Seducer, Spartak RU3B. Non cambiano le posizioni, sulla retta di fronte, breve tratto in salita, Sion del RUM arriva al mezzomiglio in 59,3, sempre tallonato da splendore RAB. Quindi con Sissi-Holtz ha un paio di lunghezze a precedere con l'altrettanto intervallo Sevillano. Si arriva al chilometro in 1,14,2, Sion del RUM, splendore, Sissi-Holtz, Sevillano, restivo ad impegnarsi. Quindi Spartak RU3B. Mette la testa in fuori Sissi-Holtz, parato da splendore RAB. Sion del RUM imbocca la retta d'arrivo al comando, mai sotto frusta. E splendore RAB, al suo esterno, passa in maniera netta e chiara, con all'esterno Sissi-Holtz. Splendore RAB, Sion del RUM e Sissi-Holtz. Gli ultimi metri sono una passerella per splendore RAB Lorenzo Larrosa. Sissi-Holtz conquista il secondo posto davanti a Sion del RUM. Due minuti spaccati, 1,15, la media vincente di splendore RAB Lorenzo Larrosa.